Siamo collegati con il nostro amico Gianni Politi Buonasera Lamberto Ciao Gianni Allora siamo a Campi Salentina nello splendido scenario del Parco dell'Amore dove pensate Rodolfo Valentino veniva qui da solo per le sue prime esperienze d'amore e non voglio anticipare quello che è l'argomento però qualcuno già ne ha parlato la storia d'amore dell'anno, del millennio tra la neoeletta Miss Italia e il noto pasticciere Angelo Bisconti Buonasera Buonasera a tutti Più è stata smentita in maniera recisa questa storia e più rotocalla